I collegamenti ferroviari nella visione complessiva delle infrastrutture delle marche è stato questo il tema al centro del convegno promosso dalla regione al Palazzo Ducale di Urbino, un confronto partecipato tra gli esponenti delle categorie locali e referenti nazionali per collocare le marche sui binari giusti all'insegna della sostenibilità, della competitività e dello sviluppo del trasporto su ferro. Noi nella nostra regione abbiamo un entroterra bellissimo e abbiamo anche infrastrutture già realizzate che vanno ripristinate, ripristinare corse che possono non solo dal punto di vista turistico, dal punto di vista commerciale ma anche come attrattività complessiva del territorio ridare una marcia aggiuntiva al nostro territorio. Poi in questo periodo particolare ma in tutte le stagioni le marche possono essere utilizzate nel turismo stagionalizzato e nella filiera agroalimentare e in tanti aspetti che ci devono alla cultura, al paesaggio, ai nostri borghi millenari. Ecco io credo che questo patrimonio debba appartenere non solo alla nostra regione ma a un circuito nazionale e internazionale che ne può usufruire e ne può fruire. Ecco per fare questo la linea ferroviaria è sicuramente importante perché ci dà la possibilità di cogliere e di vivere un territorio a 360 gradi. Parlando invece dell'arretramento ferroviario e della linea adriatica il presidente ha detto che rappresenta uno dei passi più importanti da compiere per ridare vita ai territori interni, per creare un servizio e un'occasione di sviluppo a realtà bellissime che hanno bisogno di servizi. Più che un arretramento, ha precisato Acquaroli, chiediamo una nuova linea ferroviaria che riesca a dare a quell'attuale la possibilità di venire trasformata in metropolitana di superficie. Inoltre realizzando una nuova linea possiamo ambire a divenire una regione evoluta grazie all'alta velocità per avvicinare le marche alle città del nord e alle grandi direttrici di trasporto. Secondo l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, le marche devono recuperare alcuni decenni di mancata visione e lo strumento idoneo è rappresentato dal piano regionale delle infrastrutture. Dobbiamo rientrare tra le regioni più sviluppate di Europa. Le ferrovie dovranno gestire nei prossimi anni oltre 100 miliardi in Italia. Noi dobbiamo intercettare quelle risorse, lo stiamo facendo, lo stiamo facendo sulla Roma-Ancona, stiamo discutendo di una nuova linea veloce per il trasporto merci e il trasporto passeggeri media e lunga percorrenza lungo l'Adriatica, trasformando il resto delle ferrovie marchigiane in una metropolitana delle marche, una metropolitana di superficie che colleghi tutti i nostri territori e scarichi traffico lungo la dorsale adriatico-tirrenico e quindi la Roma-Ancona e lungo la dorsale adriatica. Solo così si rientra nello sviluppo, solo così si entra efficacemente nel XXI secolo. Lo studio di fattibilità per la FAN Urbino, poi aggiunto Baldelli, è già stato realizzato da Ferrovie su incarico del Governo nazionale affidato nel 2016. attendiamo la risoluzione di tutte le interferenze presenti lungo il corridoio ferroviario, è importante, ha concluso l'assessore, collegare Urbino, co-capoluogo di provincia, con la linea adriatica, quindi con Fano e Fabriano. A parlare del treno come motore di sviluppo economico e turistico della provincia, anche il direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Francesco Cantamessa. Urbino non aspetta, non può aspettare solo il treno storico, Urbino merita il treno regolare, il trasporto pubblico locale su ferro. Pensate a una ferrovia moderna, silenziosa, magari a idrogeno o a combustibile liquido ecologico, e pensate al collegamento diretto che ne so, Urbino-Bologna, Urbino-Bari, in stradare direttamente i flussi di studenti, di enormi turisti che guardano a questa eccellenza italiana, non replicabile in Italia, arrivando tramite l'alta velocità, io penso a Bologna, e da lì un regionale veloce per Urbino. Questa non è, pensare è troppo alto, questa non è una chimera, questa con la tecnologia, con il PNRR, con la volontà politica della regione, e consentitemi, con un grande player come il gruppo Ferrovie dello Stato, ciò che si è detto per 30 anni, se c'è la volontà di tutti, si può questa volta realizzare.